Non so, non vi va mai bene niente, ah ditelo, non vi va mai bene un cazzo, via. Ciao Bojack, io mi chiamo Pelato, ciao. Come state? Buonasera a tutti, Potere Pelato, spero che rimetto lo fai and high pop pipipop, ok, va bene, che sennò cantano, e buonasera a tutti, buonasera a Bojack, a Mostarda, a Pelati e Fumetti, a Manuel, che non gli va mai bene un cazzo, e a tutti quegli altri che ci sono e che non hanno parlato ma che magari non ci sono perché non lo so. Ciao anche a Nicola, buonasera Nicola, benvenuti tutti qua, tutti qua, tutti qua. Come state? Cosa avete fatto di bello? Cosa state facendo adesso? Dove siete andati? Dove siete stati? Siete in vacanza? State lavorando? Siete a scuola? Non credo perché le scuole sono chiuse. Buonasera. Sto ammalato a Cipannicchia, no Bojack, riprenditi che poi c'è il cazzo. E' il capodanno. Ti perdono, Manuel, ti perdono, anche se non vi va mai bene un cazzo, però ti perdono. Vieni a prendere un perdono. Ciao, frazze! Ah? Cosa sarà questa cosa bianca? Non lo so. Una briciola di brioche. Buonasera. Buonasera a tutti. Al cenone di Natale hanno usato il cibo scaduto. Ecco cosa succede poi. Eh, eh. Ok, Bojack. In effetti la notte di Natale non ho dormito nemmeno io perché mi faceva male tutto qua. Però, un paio mi sono ripreso. Però poi ho mangiato il cibo, per cui, cioè, tipo, ieri ho mangiato la fettina di carne, avanzato dal cenone. Dal cenone, pranzone. Poi ho mangiato il purè. Ho ancora del purè, in effetti. Ho del purè e dei piselli, ancora. Credo sia le ultime cose rimaste. Ho appena finito Gen 1. Ah, Gen 1 di Hiroshima, ok. Sto piangendo, non penso che prenderò i provi. Ma come no? Vabbè. Buonasera Umberto e buonasera a tutti. Ciao al Big Galaxy. Ciao Principe dei Draghi. E ciao a tutti quelli che stanno iniziando la loro live su Twitch, facendomi suonare il telefono. Grazie di aver iniziato le vostre live, contemporaneamente alla mia. Che già c'è troppa gente. Ciao Isayuki Den. Buonsoir. Buonsoir. Ciao Sheffard. Come va? Gen c'è su Manga Plus? Non credo, Bojack, così a naso. È un po' vecchio. Però, magari c'è. Ciao Kanzi 28. Oh no, è scaluto l'abbonamento a Manuel. Dovete regalare l'abbonamento a Manuel. Manuel, abbonati. Ti do io i soldi. Non si può. Non si fa. Ehm, boh. Comunque siamo veramente pochi oggi. Frazza, livello 1! Potere pelato! Prima aveva scritto, stavo guardando se avevano il VIP. Non c'è. Boh. C'è l'ha il VIP, non aveva solo la sub. Potere pelato! Grande Frazzi. Anche Sheffard si era dimenticato. Ma ora è pelato! Potere pelato! Consiglio veloce veloce. Mi consigli Secret Invasion Must Have? Secret Invasion Must Have. Sì, dai. Oddio, io non so quanto si capisca dal must have, però il must have costa poco, per cui perché no? Se non l'hai mai letta, ci sta. Anche io, tra l'altro, dimenticato. Non dimentico... Ma come fai a dimenticarti il livello 1? Dovrebbe essere automatico. Smettila di... Smettila automatico. Assolutamente disinteressata è questa affermazione. Non dimenticate! Volete non dimenticarvi mai la sub? Abbonatevi con il livello 1. A soli 4 euro al mese potrete sostenere un pelato. Che, tra l'altro, è anche una cosa... Potremmo definirla... Aiuta le minoranze. Aiuta un pelato. Aiuta una minoranza. Ma è bello Dead... No, è Dead Demons... Destruction. Sì, è molto bello. Si chiama solidarietà. Se aiuti un pelato, è solidarietà. Non sono più... Nooo! Manuel senza mod! Povero Manuel. Povero Manuel. Qualcuno aiuti Manuel? E poi che abbiamo? Django Jazz. Che è? Ciao Django Jazz. No, che gifto? Io so povero. Perché adesso mi auto-gifto le sub. Cioè, sono io che regalo le sub agli altri. Ma quello che è arrivato e ha donato 30 sub? No. Boh. Può essere. Non mi ricordo più come si chiamava. Opera preferita di Tezuka? Laffè non lo so. 3 Adolf? Forse. Non c'è Top Sub Donator qua sopra. Chissà chi era. 91 Albi? Non era 91 Albi, credo. Non mi pare proprio. Anche se non mi ricordo chi era, però. Però... Sto vedendo se tornando indietro lo trovo. A nove giorni... Mi arriva solo fino a nove giorni fa. Era più di un mese fa. Eh. Era Julian? Era Julian, è vero? Tipo, forse. Comunque, comunque. Come state? Come avete passato la vostra giornata? Di sicuro non è più abbonato col livello 2. Si è abbonato col livello 2, ma non c'è più. Bella Umbe. Passo per un saluto che bisogna finire... Di vedere Stone Ocean. Giusto, giusto. Le cose sono cose. Effettivamente. Ogni cosa è una cosa, diceva. Però potresti lasciare collegata il cosa senza volume, così la gente vede che c'è più gente. Aiutate un pelato! Ci sono molti modi di farlo! Ehm... Comunque. Bro! Non dovrebbe essere sista, ma si usa bro anche con le ragazze? Ehi, bro! Ehi, bro! Non lo so. Ditemelo a voi giovani. Oggi mi sono fatto del male leggendo un volumetto di Pum Pum. Chiamami bro. Ok, bro! Ehm... Io mi sono fatto del male... E ok, sis! Un belto! Grazie Sayukiden per aver regalato un abbonamento di livello 1 a Manuel! Top ettone! Grazie tante. Manuel sarà felice. Manuel ringrazia. Fai i saltellini di gioia. Addio, sis, bro, quello che vuoi. E io invece ho letto il terzo volume di Itchie the Killer. Il finale è un po' inquietante. Scusate. Il finale è un po' inquietante. Sì. Ah, mi fa male il collo. Sto guardando i personaggi Bonelli. Non li conosco la maggior parte. Tipo perché c'è Death? C'è il Dottor Destino? C'è il Dottor Destino? C'è il Dottor Destino? Il Dottor Destino, chiaramente. Drago Nero. Il Soldato d'Inverno. Poi Death, appunto. Tony Stark. Ha i baffi, per cui è Tony Stark. Mi spiace il Principe dei Draghi. Più per la storia che per il peso della difficoltà. Dov'è Mr. No? Non so che faccia abbia Mr. No. Comunque, il tema di oggi... Allora, abbiamo questo bellissimo sacchetto, ma non c'è molta roba dentro, ovviamente. Non è che abbia fatto chissà quante robe. Mr. No assomiglia a Ann Amor. Ha le orecchiettine a punta? Ha usato ai lati, taglio d'ammarenza. Ha usato ai lati, taglio d'ammarenza? Non lo vedo. Buono. Non lo so. Ciao Albi Galaxy, sei il nostro re. O io sono il re. Sono io lo re? Mi sto lentamente spegnendo. Dicevo, oggi, tema della live, oltre a vedere le cosine che mi sono arrivate, tra l'altro mi è arrivato anche un pacco del mistero. Che è questo qua, ma non so cosa c'è dentro, e quindi direi che lo apriamo alla live del compleanno. è strano. Ha una consistenza strana, non capisco. Secondo me è una maglietta. Secondo me è un fumetto e una maglietta. Non lo so. Comunque. Lo aprirò al compleanno, non le dì. Saranno degli Swiffer, non credo. Sono quadrati le confezioni degli Swiffer, sono alti così, però può essere. Tutto può essere. Una maglietta di Deadpool potrebbe essere, perché effettivamente c'era in lista. i led, un visore da ciclope, anche. L'occhio di ciclope. E... Comunque lo scopriremo lunedì. Però ho anche altre cose. Magari una parrucca, anche. Una... Non lo so. Finalmente sono recuperato la trilogia di Star Wars 4, 5 e 6. Magari è una finta... È una di quelle da mettere in... Cioè, una finta pelata, che non mi serve a molto. Però... Bravo Alessigno. Finalmente hai visto dei film belli. Intanto è arrivato Napoletano Rubacuori. Benvenuto Napoletano Rubacuori. Sei qui per rubare i nostri cuori? Ne sono felice. Ciao. Ciao Manuel. Quella pelata è bellissima. Grazie, lo so. Già hai rubato il mio cuore. Ora puoi andare. Che palle? Cosa? Io sono all'inizio del 6, non so quanti mesi. Male Manuel. Guarda il 6, che è un gran bel film. Addio, addio Napoletano Rubacuori. È stato bellissimo. Durato breve, ma intenso. Ma parliamo bene. Ah no, partiamo bene. Eh, mi ha fatto un complimento sulla pelata. Ci sta. A me è piaciuto. Tra l'altro sta per scadere l'hype train. Sono triste. Io sto recuperando la trilogia dell'Hobby. Tu, Calvinone non è sabato e ha un VIP. Chissà perché. Lo svippiamo. Svippiamo Calvinone. Eh, lo so che ti renderà felice pure che ho iniziato a leggere pure... Aspetta. E so che ti renderà felice pure che ho iniziato a leggere pure il Signore degli Anelli e sono a metà della compagna dell'anello. Grande, grande. Bravo. Abbiamo perso il treno. È sempre bello il treno. Se fosse più lungo sarebbe più bello, come dicevano nel ragazzo di campagna. Eh, la volta scorsa avrà più vagoni. Eh, sì, 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 sì. Ormai i vagoni sono finiti. Non ci sono più i vagoni di una volta. Umbe, la tua pelata è così lucida che qualunque pelato proverebbe... Ma non è vero. Sono tutto... Sono rasato molto male, in realtà. Perché non ne ho voglia. Sono in un periodo di abbruttimento. Molto abbruttimento. Ciao, Mirko. Benvenuto. Comunque, a mod, segnatemi i calvinoi in quelli da devippare. Lo mettiamo in lista, se non si risabba. Vediamo. Da quanto ci chiede... Come sta? Lo scriva? Non lo so. Penso bene. Non lo sento spesso, lo scrive in privato. Ci segui il 3 gennaio 2020 il solo. Vedi, vedi. Poco tempo. Specialmente è abbonato per un mese. Vabbè, dai. Vediamo. La tua pelata è così lucida che qualunque pelato proverebbe invidia. Unvip. Tony Stark ha fatto anche cose buone. Non avendo il vip infiniti. Simo Henry, benvenuto. Grazie del follow. Vuoi diventare pelato? Chiedimi come. Unvip. Unvip. Mostarda zottata. Il proprio italiano ha la pelata, ma non sarà mai come quella di Umberto. Digli, Manuel, io se fossi in te, andrai lì e gli direi, potere pelato! E vedere cosa ti dice. Magari dice delle cose interiore. Magari ti banna, però non lo... Cioè, ti banna dalla scuola, tra l'altro. Magari ti boccia, volevo dire. Parlo faccio troppo. Al posto del suo fai vip il tuo amico mostarda. Non sei abbonato di livello 1, mostarda. Quando sarai abbonato di livello 1 e non farai invece il triste abbonamento col Prime, avrai il tuo vip. Come ben sapete, il canale apprezza gli abbonamenti di livello 1. Ho pensato di farlo onestamente, ma non credo lo apprenda benissimo. Dovresti fargli vedere il video... Sai cosa dovresti fare, Manuel? Dovresti andare sul canale quello... Cioè, sul video, l'ultimo, che adesso rivedremo insieme, secondo me apprezzerebbe. Cioè, se tu vai qua, cioè vai su questo, no? Aspettate. Ci arriviamo. Un attimo. Non dovevo andare qua, però. Che cazzo. No. Allora. No. Ma dov'è? Mmm. No. Dov'è il vlog? Non c'è. Ah, è questo. Vediamo se riesco a entrare nel coso a un certo punto. No, Andrea Vidale non è tornato, che io sappia. È scomparso nell'odio. Non lo so. È esploso di odio nei miei confronti e non è mai più tornato. Mi raccomando, con la nonna, evitiamo le solite scenate sui regali, ok? Lo sai, ormai è vecchia. Vecchia sa... E allora uno giustamente si chiede perché altre ca... Anche questa edizione della Games Week Cartoon Mix. Un'edizione piena di streamer, di youtuber, un po' di videogiochi e anche qualche fumetto. Però è bella e poi c'è fretta. Ciao, potere pelato. 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 potere pelato potere pelato ragazzi potere pelato ragazze potere pelato 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 Gli fai vedere questo, un sacco di gente Come hai fatto a convincere Giorno Mita, non c'era Giorno Mita Junior Boh, Jack non c'era Non hai tanto convinto Alla tipa, stai parlando di Sekib Maledetta Sekib Ciao Sekib, so che ci segui sempre POTERE PELATO Un giorno lo dirai anche meglio POTERE PELATO Ciao Maledetta Sekib La convenzione di fumetti Senza paura Vabbè, fumetti senza paura Aveva difficoltà effettivamente a dire POTERE PELATO Però Sekib 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 Non conosce la potenza del potere pelato Giusto Potere pelato Non mi è mai passato Sekib Sekib Ma secondo me è Sekib Non è Sekib Però chiamiamola come vogliamo Se no è Sekib Allora la chiamiamo Sekib 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 Sono Sekib In potere pelato E come Mjolnir Solo i degni Possono sollevarlo Al cielo Sekib Sekib No, che Sekib C'ha la K Comunque ciao Gorgon Benvenuto in questa disquisizione Su come si legge il nome di Sekib O Sekib O Sekib 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 Bebe 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 Così Credo Ma In ogni caso Chiama e chiedile La Non ho il suo numero Sekib Se stai guardando Dici come si legge il tuo nome Vado a chiederlo Nella sua live Torno subito Grazie Bojack Corri E poi facci sapere Sekib 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 Ma E' il momento Più bello Della settimana Quello Del pacco Sarà il pacco Giusto Spero Cioè Questo dovrebbe essere Il pacco Che so cosa c'è dentro Potrebbe essere Sbagliato Magari è l'altro Vediamo Sì E' quello giusto Perché C'è Crada Crada ci sei? Non ho visto se c'è Crada 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 Ci sei? Non c'è Mi sa Comunque Comunque Il secondo Numero Della Light Novel Di Mi sono Reincarnato In uno Slime O slime Che bello Oh guardate Ci sono anche I personaggi Oh Però è bello Intenso per essere Una Light Novel Devo dire Sono ben 340 pagine Sti cazzi Ma la faccia Del light Novel Non so Quanti volumi Sono in tutto In realtà Ci sono Anche Dei disegni Che schifo I libri No no ma ce li hanno Guarda ce li ha Dei disegni Pochi ma ci sono Tipo guarda C'è questo Questo Tensei Shitaras Rime Dattaken Volume 2 No È da libro A fumetto C'è da libro Ad anime A fumetto Anime E fumetto Però è nato Prima il libro No non lo comprerei Tra l'altro Non c'è su wikipedia Che mi dice Vi dà la slime Dai Allora La light novel Minchia Sono 22 volumi Sti gran cazzi Alla faccia Del culo Oh crada Aspettavo giusto te Ma che minchia 22 volumi Così Cioè Sono 340 pagine Questo qua Alla faccia Della light novel Proprio light Non finiremo mai Ciao Sono fuse Mi sono ritrovato Di nuovo A chiedermi Di nuovo A cimentarmi Nei ringraziamenti Stavo pensando A cosa scrivere Io sono di quelli Che leggono Primi ringraziamenti Vedi anch'io E di tanto E di tanto in tanto Mi baso su quelle Per decidere Se comprare l'opera O meno Ah no In questo caso no Grazie a Juma90TV Per la sub Livello 1 Un mese Grande Juma Non hai il VIP Juma Non hai il VIP Dopo 22 mesi Di sub Non c'è più religione Non c'è più religione Per i pelati La religione pelata Mi era mancata Vip Juma90TV Livello 1 No l'originale La novele Molto carino No infatti L'ho già detto Ma non l'avevo letto A boggia Con che piscini Il secondo volume È una revisione Che riempie Dei buchi Presenti nella versione Online Avevo in programma Di inserire Che stavolta Una side story Ma ho aggiunto Tanto di tanta roba Che alla fine Il testo si è allungato Troppo Sì infatti Sono 340 pagine Ecco Che ora Lo abbandoni Chi abbandona Cosa abbandona Eh Chi lo pubblica Lo pubblica Docuscio Non conosci Docuscio È una casa elettrice Che pubblica novel Docuscio E di ciala di Mi sono reincarnato In uno slime Storia diffuse Illustrazioni di Mitzvah Come bar Mitzvah Credo Io ora mi immagino E ora mi immagino Questo giapponese Che una sera ha detto Cazzo mi serve Un nome D'arte Mitzvah Ok Saranno 3 all'anno Non è una spesa impossibile No vabbè Ma le parole Sono scritte al contrario No 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 Ma non erano scritte Al contrario Le parole Comunque Era semplicemente L'impaginazione Al contrario No L'impaginazione Essendo un libro È normale Inizia Da Di qua E si legge Come un libro Stranamente Su Andiamo al bar Mitzvah Esatto Sheffard Esattamente Come c'è Com'è sotto la sovracoperta Uguale Identico Mi piace Mi piace la varietà Vabbè Shaobado Meglio Comunque sono libri Costanza di Cero L'Uno Insomma Sei un VIP Sei un pelato VIP VIP pelato C'è sempre piaciato Che bello Che bello Che bello Sono proprio contento Di avere il mio nuovo libro Che non leggerò mai Probabilmente Ma è bello davvero Lo porterò in Giappone Lo leggerò in aereo Durante il viaggio In Giappone In Giappone Con lo slime Potrebbe essere un'idea In realtà Portarsi un libro Da leggere In Mentre vado In Giappone Viva i libri E anche i fumetti Ah Mi fa male vivere Ah Mi fa male Il collo Sono tutto bloccato Mi sono svegliato Stamattina Con la schiena a pezzi Ma ormai E proprio Non diventate vecchi Non fatelo Restate giovani Finchè potete E poi Ho comprato Una cosa in edicola Molto bella Ed è Il colpo alla telecamera No È Evie Metal Evie Metal O Evie Metal Aia C'è una tipa Nuda Giustamente C'è una tipa Nuda Con dei tubi Che modifica Il cervello Di un tipo Nudo Che fuma Mentre guarda Un porno Tra l'altro Molto inquietante Credo sia Il sessismo Degli algoritmi Gender Vediamo bene Non ho letto Non ho letto Questo articolo Lo stavo Però Lo scorso E mi sembrava Una marea di cazzate Però lo leggerò Tra l'altro Si apre Con un'illustrazione Di Yi Yang Che Yi Yang Che tra l'altro Abbiamo appena visto Dire potere pelato Nel video Tutto torna Come vedete Tutto torna Era So che era difficile Da riconoscere Ma era l'unica Ragazza asiatica Del video Era Yi Yang Ed era Quella che ha disegnato Questa inquietante Immagine Del futuro E' arrivato Che bello Il futuro Che bello Babbo Natale Robò Con i bambini Inquietanti Che le facce vuote Che si guardano Inquietanti Coincidenze Io non credo Non credo proprio Poi c'è una bellissima Storia Con Babbo Natale E i troll Disegnata da Bart Sears E scritta da Ron Marks Guardate che bello Babbo Natale Cioè E San Nicola Tecnicamente Però è proprio Un bell'uomo Dopo aver detto Potere Pelato E' rimasta Traumatizzata Me l'ha anche scritto Sul fumetto Però Potere Pelato Poi c'è un'altra Storia Un'altra storia L'abbonamento Google Il sessismo Poi abbiamo Bo Dei Lupocani Gente che fa cose Tim Powers Il ripiratore di Bibbia Un romano Un racconto In prosa Poi c'è un lungo fumetto Con dei gran bei disegni E anime cult Io non lo sto comprando Perché sinceramente Non mi interessa Una rivista Di approfondimento Sugli anime Questo invece Quanto meno Sono tutti fumetti Molto particolari E strambi Qui si parla Di carcere Di pecore Storie di Teschi Storie di heavy metal La rivista E altri fumetti Strani Di Benton Jew Oh Molto molto Cavucciore Devo dire Non so quanto Durerà Non credo molto Però Sì no Anime cult Per carità Se avessi soldi Da buttare Magari prenderei Anche gli altri Numeri Però Il nome È quello Della storica Rivista americana Di fumetto Alternativo Che esiste Da decenni Dal 77 E si chiama Heavy metal Perché era un fumetto Era una roba Di rottura Buonasera Barbangreen Comunque da sempre Soddisfazione Leggere riviste Sì è bello Poi per carità Caruccia E anime Cosa Ho preso solo il primo Però Nel prossimo numero Donne nude E draghi Come piacciono a noi Non nascondo Che mirano Al pubblico Che vedeva gli anime Sì no Ma per forza Cioè Lo vedi E chi devono mirare C'è sopra Ken Lamu Sailor Moon Ranma E intervista All'unmigo Takashi Poi c'è Kiss Me Lee Cristina I telefilm made in Italy Con Ligia Mirko e Giuliano Store comics Degli anni 90 E i manga Che hanno fatto la storia Poi anche Immagini Ricordi E collezioni Da sollevante Ci sta Poi Ribadisco Non mi dispiacerebbe Nemmeno prenderla Però Boh Non so Nel teatro C'è un'intervista All'Upoi Allora va preso Assolutamente Potrei ordinarlo Da Amazon Ecco Ma non c'ho voglia Che lo ci scrive Anche Kiri O sopra Può essere Non mi ricordo Sì forse sì Ma quell'altra Esiste ancora? Quella di Tornato tutto disponibile Il Batman e Grant Morrison È da prendere? Assolutamente sì Mi fa male il testino Però è arrivato il momento Che mi fa ridere Il momento che vi farà ridere Perché ho acquistato Un'altra cosa in edicola Nippon Shock Sì esatto Quella dicevo C'è ancora? Esce ancora? Ancora viva? Bravi Ho voluto buttare dei soldi E ho preso Ebbene sì Fairy Tail E viva Ammetto che volevo vedere Come era l'edizione Quindi il primo numero L'ho preso E voi direte Quella Marvel Quella Marvel L'ha presa mia zia Quindi non ci metterò le mani Per qualche giorno Però l'ho presa Ipocrita Che ipocrita Volevo vedere Come era in questa edizione Tra l'altro Ce l'ho tutta Fairy Tail Non è che la rifaccia E quindi ho detto Dai vediamo com'è A livello qualitativo Intanto c'è un bellissimo Oggetto In questa plastica Bello È un oggetto Fantastico Contiene L'opera È bello Ma guardate che bell'uomo Che è Iromashima però Si vede La sua voglia Di scrivere manga Quindi no Non vediamo Quello Marvel Ma guardiamo La raccolta Che è più utile Del volume Cioè guardiamo La Il piano dell'opera È bello Fairy Tail No La faccia di uno Che di piedini Ne ha visti Ma che piedini Voi che abbia visto Alessigno Al massimo Sulle riviste O su internet Le ha visti Perché non c'ha tempo Oh che bello Ma dov'è il poster Inebito Scusate È dentro Ah no È dietro Ah no Non è vero Prenota subito In edicola Tutte le copie Non perdere nemmeno Un'uscita Della tua collezione Preferita Chiedi al tuo edicolante Di attivare Il servizio La mia copia Copri come Chiedimi come Dove Perché Non lo farò Offerta speciale Ordina subito Non perdere Nemmeno Un numero Di Fairy Tail Gratis L'uscita numero 2 Più l'uscita numero 3 A soli 14,99 Invece che 23,98 Escludendo Il contributo Spese di 2 euro A invio 2,90 euro A invio Ta minchia Con il secondo invio L'uscita 4, 5 e 6 Eh? Alla modica cifra Di uguale Probabilmente Però in più Avrai Il portachiavi Marchiato Fairy Tail Tre esclusive Tavole Non sono tavole Sono Poster 19 per 24 Non sono tavole L'esclusiva Mag Che diventa Accaldata E gli appare il fuoco Wow E la t-shirt personalizzata Fairy Tail Personalizzata in che senso? È una t-shirt di Fairy Tail Wow Sembra Sembra Berserk Maximum Eh non ha Però dai Non ha Almeno non ha il logo Che non è male Il fatto che non abbia Il logo in costina Visto che l'idea è di fare Tutto il L'immagine In teoria Per cui non ha il logo Beh l'idea non è stupida In realtà Ha solo il numerino Che è comodo Perché così se cerchi un numerino Lo trovi Se paghi con carta Paypal Non paghi le spese di spedizione Ah è questo il poster inedito Wow Che bello È doppia faccia anche Guardate C'è anche Il leone con gli occhiali E l'orecchino E i conigli volanti E Happy No non si chiama Happy In questo fumetto Vero? Ma oddio Allora Oxino Il problema qua è uno È che Fairytale È una merda Cioè il problema base È quello Fairytale È brutto L'edizione è figa E il prezzo ci sta Alla fine Perché comunque Non è particolarmente conveniente Soprattutto visto che arriva in edicola 14 Quanto è? 14,90? È tantino però Alla fine è una 2 in 1 In questo formato 300 pagine Non è una 2 in 1 Quanti numeri sono? 36 E in totale sarebbe 63 64 In edizione normale Potevano farla pagare Un po' meno Berserk c'è già In questa edizione A Juriz Devo andarla a prendere È uguale Cioè Scusate Un secondo Più o meno È un po' più bassa Cioè È leggermente più bassa Però Usciva in edicola Questo Ai tempi Oggi non esce più in edicola Perché non esce più niente in edicola Ma questo usciva in edicola E comunque costa meno Cioè costava 8,50 Mi pare Non mi ricordo quanto costa Il 27 Che hanno già annunciato Eh ma non la faranno mai Cioè Non ha senso Però sì Ti dico per assurdo Piuttosto che fare Questa Berserk Avrebbe avuto molto senso In questa edizione Ma non è un'edizione male Il problema è che Fairy Tail È orribile Cioè Poi capisco che Ha dei bei disegni Per cui alla fine Rende anche benino Adesso questo che è I primissimi volumi Non sono Però i disegni Non sono brutti Eh di Fairy Tail Questo va detto E l'edizione è figa Perché la carta È bella spessina Non è trasparente Sarebbe carino Vedere le Le traduzioni Ha le tavole a colori Che nell'edizione Tankobon Non c'erano Credo Posso andare a verificarle In realtà Per cui Tra l'altro Le carte a colori Sono su carta patinata Ciao Tammen Sì Leggo un sacco Apposta per te L'ho preso Apposta per te Pensando a te Questa mattina Ho detto No no dai Prendiamo il fumetto Più bello Del secolo Che piace tanto Leggo un sacco Quanto fa Tra l'altro Quanto era One Piece In questo periodo One Mashima Cioè Questa cosa qua Quanto è One Piece Poi è diventato Meno One Piece Andando avanti Cioè Nessuno ha mai detto Che fosse l'erede Si diceva che Disegnava uguale Che è un po' diverso Da essere l'erede Leggo un sacco Su Che cazzo No ma il prezzo Non è alto Il prezzo È abbastanza Regolare Non considerando Che è un'edizione Che esce in edicola Perché è quello In realtà Che è un po' limitante Cioè Il concetto è Che essendo una roba Che esce in edicola Si presume Che abbia una diffusione Più capillare E quindi Dovrebbe costare Un po' meno Perché è il motivo Per cui la roba in edicola In genere Ha un senso Perché? Perché hanno Dei prezzi Interessanti Guarda Quella di Si Ad esempio Però Va anche detto Che Insomma Sono dei bei volumotti Forse una cosa bella Sarei contento Di avere un manga In questa edizione qua A me se non concesso Che me lo pubblichino Tutto Che funzioni E che Boh Però se non fosse Fairy Tail No Consigliata No Perché Lo puoi avere tutto Pagandolo molto meno Cioè Fosse bello appunto Cioè con lo stesso prezzo Di uno di questi Ti compri tre volumi Nella mia enorme casa Tammene Sono un miliardario No non è vero Puzza che c'è In formato a tre Ma perché Ne hanno in formato Uno a uno Crada Cioè Così guardi Ed è come È gigantesco Poi Ora vorrei andare A prendere il numero uno Di Fairy Tail Ma non so dov'è Vedo se riesco a trovarlo Così facciamo un confronto Con la pelato caverna Esatto Così Allora Ero anche curioso di vedere dove arrivava Vedete, purtroppo non ci sono le tavole a colori, ovviamente E ci perdiamo queste immagini bellissime a colori Un po' troppe, cos'è la terza questa? Eh, effettivamente a colori è più bello Forse è tutto a colori Sì, per essere fairytale senza dubbio E basta, qui poi inizia Normale Mi incuriosiva capire dove arrivava In realtà Perché quello è interessante da vedere In pratica arriva fino a qua Poi ci sono degli extra Cioè anche, ecco, le tavole extra così con le immagini ci stanno Questa qui di Happy ci sarà immagino, dai, non credo che non ci sia La collana Marvel della Cetta ha delle run tagliate Non ha delle run tagliate Sono volumi da sei episodi, sono mini, sono tutte saghe Non credo che abbia delle run tagliate Run tagliate, che cazzo vuol dire? Non ha delle run complete, molto semplicemente Che arriva fino a pagina 190 Qui smettono di esserci i numeri di pagine 280 Chi è? Chi è? No, eccola qua, il lavoro di Happy Vedete, è un extra del volume questo Quindi c'era Grazie JustTomStudio per l'abbonamento con Prime Prime 14 mesi Sì, sì, la new ha le alette Che belle le alette, sono proprio belle Mi chiedevo fin dove si arriva Ah, ecco qua Per cui è due volumi, un volume e un pezzo Cioè questa parte qua non c'è Non so cosa ci fai a sfufu con i manga Però li lanci? Perché, cioè Però, vabbè, di extra ce ne sono in questo volume Poi che ce ne siano in tutti non lo so A set fascicoli per l'ambiente Si impegna la difesa dell'ambiente Riducendo l'impronta di carbonio Dei suoi libri Evviva Traduzione è la stessa di Star Comics? Cioè È fatta in collaborazione con Star Comics sta cosa? Sì, su Licenza Kodansha Edizione Star Comics, ok Quindi presumo sia la stessa identica traduzione Così A logica A sto punto potevano fare due volumi Ma probabilmente hanno copiato Una qualche edizione Giapponese Perché se no, sì, non ha molto senso Effettivamente Sì, direi che la traduzione è esattamente identica Lo stesso Adattamento lo stesso Con le onomatopoe tradotte Per cui Sì, siamo lì È proprio identica Identica uno a uno Poi ovviamente Le tavole sono molto più grosse Per gli amanti dei piedini Sicuramente è un plus Questa cosa Però dai Nel complesso L'edizione è bella Le copertine sono molto molto morbide Cioè sono molto molto poco copertine Sono plastificate E sono super flessibili Sembrano quelle di uno spillato quasi Italiano Non quelle tipiche di un Da manga Cioè lo vedete che è proprio Eh sì sì Se lo facessero per dei manga belli Sarebbe un'edizione molto carina Che ti occupa un sacco di spazio Perché il problema è quello Cioè nel senso Anche a livello di spessore Oddio Di spessore più o meno Siamo lì Non è che siano particolarmente È un po' più spessa Perché guardate Cioè Pensate che non c'è Non ci sono entrambi i volumi dentro Però è più o meno uguale Per cui Ti occupa più spazio Della new edition Però Insomma Per una roba Magari con delle tavole molto belle Ha senso One Piece Un One Piece così Anche Bleach Bleach sarebbe fico così Sicuramente più di questo Non lo ricomprerei Però Uno ci può anche fare un pensiero A un Bleach così One Piece Sì Perché One Piece Con le tavole giganti Sarebbe figo Vabbè Due al mese Non è così Infattibile Sono 30 euro Non è poco Ma non è neanche così infattibile Alla fine Se considerate quanto Che ad esempio Costa 12 euro Full Metal Alchemist E questo è Bello più grosso Di Full Metal Alchemist Eh Eh sì Quello è mensile Questa è quindicinale Credo Le copertine Ah no La copertina è questa Alla fine È questa rieditata Hanno tolto le boobs Male Un grosso errore di marketing Credo per avvicinarsi ai bambini Anche se in effetti Poi Qui ci si allontana un po' Dai bambini Tra l'altro Lui in che posizione sta? Amici eh Vabbè La copertina Chi se ne frega Alla fine Cioè Non è che devi Lanciarlo Il bel disco Beh sì Se la devi comprare La compri Non è che Ora Io ovviamente Non la compro Eh Ho preso il primo numero Perché costava 4 euro Ed ero curioso Di vedere com'era Proprio a livello qualitativo Perché comunque Mi interessa sempre Dargli un'occhiata Ora lo butto No Non lo butto Lo metto nella mia Nel mio Nel mio archivio Di manga abbandonati Eh Però È un'edizione sicuramente Che ha il suo Perché È lo stesso motivo Per cui ho comprato Il primo numero Di quella marvel Che ancora non ho Perché Comunque Sono curioso Di vedere A livello qualitativo Come sono i volumi Perché alla fine Ci sta Il giorno di uscita Di fairy tale È il mercoledì Per ricità Tra l'edizione di colano Di due settimane Numere retrati Disponibili Per sei mesi Salve esaurimento Chiedendo La sua edicolante Di fiducia E boh Comunque sono 32 Quanti numeri È che hanno detto 30 36 numeri Bisettimanale Cioè 15 36 mesi Un annetto e mezzo Più o meno Adesso Umberto Può scaldarsi Per una settimana Dove lo brucio Comunque ovvio Le collane Da edicola Vanno comprate E Non finirò mai Di dirlo I manga Andrebbero Tutti i fumetti Andrebbero comprati Ragazzi Se vi piace Una serie E volete leggerla La cosa peggiore Che si può fare Sempre È dire Aspetto che finisca Poi la compro Non è una buona idea Non lo è mai Perché se tutti ragionano così Le serie non finiscono È proprio una di quelle robe Che non andrebbe mai fatta A meno che uno Non compra mille fumetti Allora dice Vabbè Però Non è mai L'idea Di fare così Ma no È una grossa palla Fairy Tail Va avanti Io mi sono fatto le palle Di leggerlo Cioè lo sto finendo La new edition Ma sono indietro Di una ventina di numeri Penso Perché mi sono proprio Rotto il cazzo È troppo lunga Ed è sempre uguale Più che altro Ed è sempre con questi Cioè Purtroppo le trame di Mashima Sono palloselle Fondamentalmente Quindi Boh Potete finire Rivenderlo Sì Lo finisco Lo rivendo E per poi Ricomprarmi questo Perché bisogna sempre Avere l'edizione Più nuova E più figa Ricordatevelo Anche se non vi piace Più nuova E più figa Anche se non ci piace Ora invece Direi Di dare un po' Un'occhiata A questa roba qua Rave era pure peggio Ma io dopo Rave Infatti non ho comprato Fairytale Ho recuperato Fairytale New Edition Infatti Ho avuto bisogno Di qualche anno Per No secondo me Rave era molto peggio Azfufu Era proprio una merda Rave Sembrava una Fanfiction In certi momenti Ma pesantemente Che è un po' Sempre il problema Di Mashima Mashima Ha questo problema Lui arriva a un certo punto Nella storia Sempre Costantemente E Fa il colpo di scena Però i colpi di scena Di Mashima Generalmente sono Sapete una cosa Sapete il cattivo Non è il vero cattivo Perché c'è un cattivo Molto più cattivo Dietro di lui Di cui non abbiamo mai parlato Eccolo E va avanti così Sempre E poi c'ha Le cose che ritornano A lui piacciono delle cose Quindi le ripropone In tutte le salse Stessa cosa Fairytale E Edens Oh Scusate Un Dragon Ball Che non ci ha creduto Ma adesso c'è Che palle No ma non fa due o tre opere Contemporaneamente Che dici Oxeno Non ne fa due o tre Contemporaneamente Ne fa una Sono finite le altre Da anni Fairytale è finita da anni E adesso sta facendo Cadence Zero Prima faceva Rave E poi ha fatto Fairytale Comunque Dicevo Non la fa lui Non lo fa lui Fairytale One hundred years Oxeno Quello è uno spin off E come tutti gli spin off Sono fatti da altre persone Cioè ancora state Veramente a credere Che quando c'è scritto A cura di La scrive veramente L'autore Eh Eh no Perché secondo voi Toriyama si occupa di Dragon Ball Super O Kurumada Si occupa di Sede degli spin off Di Sensei Ah No Non lo fanno Generalmente Sensei e Kurumada Succede questo Le va bene Si Eh L'assegno Lì O al peggio Eh si Da bene Allora In queste Diceva Cavana Dovrebbe fare Un'altra Ma la stai ancora Facendo una Ne vuole fare Un'altra Quando non è ancora Finito quella In corso Ottimo Mi sembra Proprio L'ideale Accetto Non aggiusta Le tavole Quindi fa le correzioni Ogni tanto A certe cose Ma immagina Quanto lo farà Ma non l'ho vista Perché non ce l'ho Ma adesso guardiamo Il piano dell'opera In modo un attimino Però Fatto bene Non so come farlo Eh Però lo facciamo In modo fatto bene Perché questo qua È il nostro Piano dell'opera Allegri Cento Allegri E più numeri Che ci accompagneranno Con gioia In teoria Dal 28 12 2022 Fino al 14 Ottobre Del 2026 E Un po' Too much L'avete detto voi Io non l'ho detto Dove è finita la cronologia? Non c'è già più? Che palle Cronologia Non c'è già più Non c'è un'immagine C'era l'immagine Mi sembrava ci fosse l'immagine Non c'è un cazzo Che palle Vai al sito Oh Oh Va che bella Va che bella Va che bella Non c'è tutta l'immagine In tutti i volumetti Uno di fianco all'altro? No Perché non c'è? Ma mi ricordo che c'era Opera Eccola Beh L'immagine è molto figa Devo dire Con i tuoi cento volumi Che compongono Un'unica immagine Se te la tagliano A un pezzo Mancherà un pezzo E va bene No Non comprerò Alcun numero Di questa collana Ma che sei scemo Mostarda Perdonami Ma ti pare Ho giusto preso il primo L'ottimismo L'ottimismo Qua Home Se ti abboni Se paghi un carta di credito Paypal Riceverai il notebook Con il segnalibro personalizzato Marvel Legendary E avrai le spese Dispedizione gratis E la consegna Con corriere Per tutta la durata Della collezione E Bello Poi abbiamo La fantastica Pilla di Marvel Comics L'esclusiva Tazza E La cover in metallo Questa la vorrei Di Infinity Gaunt Te la prenderei in cucina E anche Queste bellissimi Firmalibri 3D Belli Mi piacciono Sono facarini Non saprei dove metterli Però belli Questi sono molto carucci Non lo so Chi ce l'ha Una mensola abbastanza lunga Per mettere 100 volumi In fila In effetti Nessuno Credo Firmalibri sono molto fighi Però penso che li trovi Se li vuoi Con la prima uscita Spider-Man 109 Avengers Divisi Che è appena uscito In must have Però 699 Può essere conveniente Loki agenti di Asgard Fidatevi di me La cosa da vedere Di questa sa Qual è il problema Fondamentale Di questa Leggendaria Collection Che tutti i volumi Sono da 6 episodi Quindi grosso modo 128 pagine Indicativamente E a volte Conviene il must have Proprio a livello Di prezzo Certe cose Tra l'altro Io non ho idea Di cosa siano Tipo X-Men La saga Dell'isola Muir Che cazzo è E la saga E la saga Dove Delle ombre Quella Con X-Factor Boh Io presumo Sia quella Cioè Secondo me È questa È lo speciale X-Men 1 No Non questo No non è Non che lo sia Questa Troppo vecchia E troppo corta No Non questo Bensì Dove stava Questa Ah tra l'altro Sì Perché in inglese È Muir Island Saga Ed è il crossover Fra Uncanny E X-Factor Che in Italia È stato pubblicato Se non sbaglio In uno specialino Star Comics Cioè Non Star Comics Marvel Italia È fondamentalmente Il numero In cui X-Factor Si riunisce Agli X-Men Dopodiché Davano il via Ai team Degli X-Men Di nuovo Coesi Sì sì È quella lì Penso Calvino Calvino Ah sì C'è anche l'immagine Effettivamente Poi Boh Cioè Hai un po' Di Capitan Marvel Hai Una storia Che palle Continuo a toccare Il microfono Scusate Sì Ho capito Non serve Che lo scrivete In dieci Basta che lo scriva Una persona Madonna Che due Coglioni C'è uno Ragazzi Mi sto leggendo Cioè Poi sono qua Ti sei mutilato Mi sono mutilato Divisi come Avengers Divisi È carina Però Ah ma è senza dubbio Ma il problema Il discorso è anche un altro sfufu È che Con leggende di sì Costa poco Rispetto a questo Questi qui costano 14 euro L'uno Non avevo Stava zottata Io ti meno Allora io prendo Un bastone Vengo a casa tua E percuoto La tua porta Ora Non avendolo In mano Il volume Come faccio A dirti Se come edizione È meglio il must have O questo Il motivo per cui Ho preso il primo Ma non ce l'ho Perché non ve lo sto facendo vedere È proprio perché Comunque sono curioso Di vedere A livello di Come è fatto Ma sei qua Dall'inizio della live L'ho già detto Che non ce l'ho E c'è la mia zia Sennò ve lo facevo vedere Sì La carta No Secondo me È un po' più leggera Però non è che sia male Riassunto in dieci parole Esce una Esce una nuova Collana Di grandi successi Marvel Ma Boh Questo è il riassunto Prego Figurati Anche qua Wolverine Nemico pubblico C'è il must have C'è il must have Che però È tutta la saga Questi sono Sono i primi sei episodi Probabilmente Cioè Non c'è la seconda parte Potere pilato Sono due parole Bostal A posto di Ma boh Ma no Ma non era un giudizio Ma boh È un giudizio Ma boh È il giudizio Della collezione Doctor Strange Il giuramento È appena uscito Il must have Tipo È uscito Il grande tesoro Di Marvel No Capite Cioè Il grande tesoro Di Marvel Cioè Il must have Lo paghi 14,25 Con lo sconto Non è più disponibile In effetti Però se tu l'avessi preso 14,25 Però è già esaurito Sì Simonard Come fai a saperlo? C'è scritto Da qualche parte Comunque sì E Questo qua Lo paghi 13,99 Mi pare Ehm Boom Bene In qualche parte c'era scritto I più di due in offerta lancio Si prendono Per il resto Convengono i must have Assolutamente Shai l'hai provato? Sì fa cacare Abbastanza Secondo me Ho letto il primo numero Non mi ha detto niente L'ho abbandonato Secret War È uscito il must have È esattamente Il problema è quello Principe dei Draghi Tu lo paghi Fondamentalmente 25 centesimi in più Il must have Però il must have Puoi comprare solo quello E te lo metti in libreria Tora Il dio del tono Il macellatore di dei Ok Se lo vuoi Effettivamente In formato comic book Ci sta Ma non hai tutta la saga Perché c'è Macellatore di dei C'è bomba divina E poi Non credo ci sia nient'altro Se non Le cose di Thor Con Foster Per cui mancano Dei pezzi di saga Non c'è la run completa Ma oddio Che ti rimangano di più Compagnini È un modo di dire Azzfufu Perché ad esempio Quello di Thor Strange È già esaurito Tipo Fear Itself Parte 1 Parte 2 Lo paghi 30 euro E di questo C'è il must have Perché ce ne sono Così tante versioni Di Fear Itself Sì probabilmente Lo vedremo L'omnibus Ah perché c'è Grandi Eventi Marvel Che non so cosa sia Che cazzo è Grandi Eventi Marvel Che costa esattamente Quanto il must have Però per dire Fear Itself Te lo compri Come leggo Le prime pagine Di un omnibus Non lo so Con gli occhi Oddio che gli editoriali Non siano il massimo Non mi risulta Sulle leggende di sì Però ok Se lo dici tu Sì visione Visione però Non c'è in must have Credo Hanno fatto Il volume completo Che sicuramente Non costa Non lo so In realtà Vediamo Visione Beh costa 25 e 65 Se è ancora disponibile Sì Costa 27 Con lo sconto 25 e 65 Formato deluxe E quello è il problema Le robe in due Secret Wars La stessa cosa Secret Wars Prima parte Seconda parte E appena uscito Il must have Costa 20 Eterni Non so che eterni sia Marvels Completo In un volume singolo Sta Mi fa strano Marvels Tutto intero Sapete Sono 232 pagine Marvels Ok ok Magari non c'è Magari non ci mettono I pilog e lo zero Eh no Non ci sta In un volume Invece Principe dei Draghi Cioè In un volume Come gli altri I volumi Non ci sta Cioè è strano Perché La versione Questa qua È 232 pagine Quella completa Con anche l'epilogo Però Boh Questi qui In generale Sono Penso Siano sulle Siano sulle 128 pagine A meno che Non ci siano Volumi Un po' Più lunghi Poi c'è Spider-Man Gli uomini Ragno Che non so Cosa sia Spider-Man Non mi ricordo Spider-Verse Anche questo Spider-Man Spider-Verse Cos'è La saga C'è Soltanto Il crossover Presumo Marvel Zombies Fairy Selfie Diviso in due Vecchio Logan Vabbè Nova Origini Non so cosa sia Sarà Nova Quello nuovo Però anche Avengers La Crociata dei Bambini Forse alcuni Sono più grandi Perché Avengers La Crociata dei Bambini Quante pagine sono Appena si apre Sono 256 pagine A meno che Non ci mettano tutto E mettono solo Però Sono comunque Un bel po' Di episodi Strano Sono delle cose Che non mi tornano Perché la maggior parte Però allora perché Altre li hanno divisi in due Però non si chiama Spider-Man Sì Dici che è quella Può essere Però è una roba Molto generica Che lascia un po' Il tempo che trova Secondo me Però anche Infinity Gauntlet In effetti Sono più di 128 pagine Probabilmente alcuni volumi Sono un po' più lunghi Anche perché Infinity Gauntlet Non puoi non pubblicarlo tutto E cosa fai? Boh La maggior parte Comunque È una storia Tipo c'è I come estinzione C'è rinascita Messia Complex Parte 1 E la parte 2? Perché non li pubblicarono di seguito? Uno il 2 Ottobre 2024 E l'altro gennaio 2025 Vabbè Moon Knight Di giorni del demone Qual è Moon Knight Di giorni del demone? Planet Hulk Vabbè Divise in 2 Ecco Planet Hulk Divise in 2 Anche qua Planet Hulk Ti compri Il grande tesoro di Marvel Cioè il must have E costa 20 Non è quella Secret Wars Secret Wars originale Non credo che la pubblichino Mi sembra tutto Materiale più nuovo E quella Secret Wars Non è quella Secret Wars Quella che c'è qua È chiaramente La Secret Wars Di Hickman Per forza Anche perché non fa Beh oddio no Secret Wars sono due volumi In effetti Però dubito Un volume unico Non ci sta Perché hanno tipo 12 episodi Credo Oxino In realtà no In realtà Questa qua È una cosa Indicata molto Al pubblico Molto generalista Invece Proprio perché Non è una cosa Così sensata Questa mira Essere venduta A quelli che non hanno Che non leggono Marvel Normalmente E quindi vogliono Un po' di tutto Perché dentro C'è effettivamente Un po' di tutto Così Un po' di tutto Senza senso Alla fine Però il problema È quello Secondo me Che se tu vuoi La gran parte Di questa roba qua La puoi trovare Pagandola meno Quello che c'è Sopra Guerre segrete Intendo Cos'è Sopra Guerre segrete Cioè Scarlet Witch La strada Delle streghe Deve essere La saga Che lo sia La serie Di Scarlet Witch Pubblicata Su Doctor Strange Secondo me Eccolo qua Sì è quella Però anche questo Non lo faranno Non può essere Un volume solo Non pubblicheranno mai Un volume solo Con 15 episodi Saranno alcuni episodi Tratti da Non può essere tutto È impossibile Perché se no Avrebbero fatto I volumi singoli Di un sacco Di altra roba Sono 344 pagine Saranno tipo I primi numeri Adesso non mi ricordo Quanto fosse collegato Tutto uno con l'altro Però E se fosse tipo Marvelverse Cioè Che cazzo è Marvelverse Che si chiama Guerre segrete Che cos'è quella Eh Che si chiama Guerre segrete Ah questa Invasione Allora Questo è Secret World Quello classico E questo è quello Cioè Quello Bella domanda Allora Visto così In realtà Non lo so Beh vabbè Una delle due È quella classica E l'altra È quella vecchia Forse Però Invasione Mi fa pensare Guerre segrete Quello Di Hickman Però Si potrebbe Magari Si chiama così Anche in qualche Versione Panini Vediamo Esiste Con lo stesso Titolo Perfetto Ah no È quello Classico Ok Questo è Quello Classico Hanno copiato Il titolo Dai volumi Panini Dai volumi Star Comics No Quello è Secret Invasion Non è Secret Wars Quindi Questo qua Effettivamente ci sta Perché Questo era Guerre segrete L'altro È sempre stato Secret Wars Anche in italiano Questa è la seconda parte Di Secret Wars Ok Con i volumi Erano otto numeri Ok Erano cicciotti Io ho La versione Panini Di questa cosa Però Tanto adesso C'è quello gigante Me lo ricompro Di brutto Tipo 35 azioni autoritarie Non so cosa sia Winter Soldier Black Widow Crisi Non so qual è E come estinzione Già Solo E come estinzione Non erano tipo 12 No Non credo Dici che erano Tre volumi Può essere Eh sì Erano divisi in tre È vero Vabbè È metà e metà Ovviamente Sono 6 e 6 Perché io Ce l'ho In due Ce l'ho Nella versione Panini Che era in due volumi Brossorati No Quella Allora Quella Latveria È Secret War Al singolare Queste sono Secret Wars Ah Una storia lunga Non prendono tutti i numeri I Marvel No Non sono tipo I Marvel Verso Sono sicuramente Tutte saghe Complete Però bisogna vedere Se sono Cioè Il fatto che siano Saghe complete Non vuol dire che ci siano Tutte le storie Della serie Può essere La saga Completa Quindi magari 6 episodi Su 15 Perché se vedete È tutto diviso in due A parte pochissime cose Per quello mi fa strano Ma effettivamente Anche Planet Hulk Devono essere volumi Un po' più cicciotti Perché sennò Non ci sta Tutto in due volumi Se non sono volumi Belli cicciotti Occhio di Falco Vita normale Sì Perché c'è Però anche lì Vita normale È il titolo Del primo ciclo Che poi È utilizzato Per l'Omnibus Però se tu vai A cercarti Vita normale Allora No a parte che Era 24 euro Per cui non credo proprio Questo qua È l'Omnibus Che contiene Tutti e 22 Gli episodi Però è anche Il titolo Del volume 1 Vita normale E il volume 1 Appena si carica Su Comixbox Arrivato nel live Sì stiamo parlando Della collana di Hachet Il volume 1 Come vedete Conteneva Un sacco di episodi Ma non li conterrà tutti È impossibile Ma questo è l'Omnibus Poi Ma perché L'Omnibus Se qui mi dici Che è il volume 1 Ma santo Ah no Ho sbagliato a cliccare Ok sono un coglione Però è questo In realtà Ok Che costava 7,99 Ottimo Comunque Vabbè Da qua lo vedi Basta andare qua Marvel Select Poi hanno fatto Il Marvel Collection Il Marvel Collection Che si intitola Vita normale Ed erano 5 episodi 5 episodi Più il Young Avengers Present 6 Conterrà questo Ok Ora Dove andava avanti Poi Ma Occhio di Falcon Non me lo ricordo Però dal 6 Il secondo volume Si intitolava Piccoli colpi È ovvio che lì ti pubblicheranno Il primo volume Non ti pubblichano ovviamente Tutti gli episodi Stasera che mangi Io pizza Io Non lo so ancora Forse è cotoletta Cotoletta L'ho comprata al supermercato Il numero di pagine Cambia da volume a volume Anche a prima Cioè Delle grafica Così Abbiamo preso una decina di volumi Sì Albi Galaxy Però noto che la maggior parte Sono pochino Si volta Con calma Lo farò forse Adesso vediamo Però prima volevo avere almeno un volume in mano Ma non ce l'ho ancora Boh Resta il fatto che ogni volta che i volumi diventano un po' più cicciotti Li dividono in due Però effettivamente Planet Hulk non puoi farne un pezzo Credo E quindi Planet Hulk Mi sa che è proprio diviso in due Però Fear Itself diviso in due Capisci che Sono volumi piccoli Probabilmente hanno un massimo a cui possono tirarli Che non so quanto sia Però Raramente ha senso Spider-Man e Wolverine un altro bel pasticcio qual'è? Non me la ricordo È quella Astonishing Spider-Man tipo Grazie per la sub volta Non me la ricordo Volume speciale della Panini Ok Eh sì Era Astonishing Spider-Man e Wolverine Me la ricordavo Sei episodi Bello poi Soprattutto per il suo grande Era di Gesonaron Ah no Era Gesonaron Ma non era quello in cui usavano La mazza del tempo Non era quello Torno da Dia del Tuono Sarà solamente l'inizio della run Secondo me No ma per forza Sicuramente non è tutto E però Kingdom Cam In un volume unico Probabilmente andava troppo oltre Rispetto a quelli che erano le loro Cioè Allora il concetto è Quando fanno queste collane Probabilmente dicono Ok Possiamo fare i volumi Da 120 Fino a 200 pagine Se va oltre i 200 Te lo dividono in due E ovviamente verrà due Magari da 128 Indicativamente C'è del dissing Verso a chat No no Non c'è del dissing C'è solo discutere Di come funziona la collana E se vale la pena spendere E io trovo che Difficilmente Questa cosa qua Ha senso Da copistare così Secondo me Può avere senso Soltanto se uno Non ha mai letto niente Quindi vuole davvero Tutti questi fumetti Ho ucciso tutto Non so come ho fatto Vabbè Se uno vuole davvero Tutti questi fumetti Ci può stare Altrimenti no Perché se ne vuoi Anche soltanto Solo un po' Ti conviene recuperarti Volumi Mastev E a volte anche quelli Non Mastev Guarda una bella collana Black Label Ma inteso come vertigo Cioè con la roba vecchia Vabbè sarebbe figo Però non ha molto senso Ma non è che non ha senso E basta In realtà Per il lettore occasionale Secondo me Non è male Questa Basta mi candido A presidente del consiglio Ok Vi porto il Ok Il problema è che Sono molto lunghe Tante serie vertigo Per cui Farle in collane Da edicola Diventerebbe un po' Complicato Secondo me Oltre ad essere materiale Molto particolare No questi costeranno Sempre 14 13,99 In teoria Eh sono d'accordo Il problema di questo Vabbè Alla fine Questa propone Quasi tutte Allora Anche questo Se loro proponessero Soltanto le cose specifiche Evitando le parti Di serie regolari Secondo me Sarebbe meglio Tipo No 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 Questa può avere senso XML nella saga Dell'Isola del Mio Eva senso Nemico pubblico Avrebbe senso Se fosse intera Ma non è intera Evidentemente È soltanto la prima saga Secondo me Il giuramento ci sta Secret World Ci sta Miss Marvel Fuori dalla norma Meno No No Non mi ricordo Qual è Black Widow Di nome della rosa Piccoli eroi Boh In umani Primo contatto Non ho idea Di cosa sia Come anche Black Panther Il cliente Ma cos'è Sta cosa Marvel Muscle Ah Sono No Scusate Non posso ne No Sono quelli Già lì Beh Questi sono fighi Però sono solo I primi sei episodi Probabilmente E non ne pubblicati Questi in qualche modo Perché questi Sono fighi Boh Il numero Il numero di Il numero di Il numero di Avengers ha senso È la fine degli Avengers come li conoscevamo Prima di Bendis E poi dal numero dopo C'è Avengers New Avengers Sì ci può anche stare Però insomma Brossumati con quattro storie Lo faceva Lo faceva Lion A suoi tempi Cioè prima Planeta Poi Lion Lo ha fatto con Sandman Lo ha fatto con Il Blazer Lo ha fatto con Con anche Preacher Erano delle belle seriette Quelle Per recuperarsi le robe Poi io spesso Li ho ricomprati in volume Però No costavano molto meno Asfufu Costavano Aspetta te lo dico Dove ce li ho? Sai che ce li ho di là? No non ce li ho di qua Ce li ho di là Erano brossuratini Da tipo 5 euro Grosso modo 4,95 Quel che l'era Qual è Black Panther Il cliente? E' quella di Anche questa qua Quella Marvel Knight? No Sì Eh sì Era quella di Marvel Knight Di Priest Teixeira Fico anche questo Questo qua Serverebbe L'Omnibus Magari con gli epitoli inediti Quanti fumetti hai Più o meno Non ne ho la minima idea Mostarda Sicuramente Sopra i 15.000 Se questa collana Fosse costata Tutta 10 euro Allora ci stava No sì Fosse costata 10 euro Avrebbe avuto Più senso A questo prezzo qua Eh ma Volta Allora C'è una differenza Fondamentale L'opera Di sì Quella lì E' pubblicata Con la gazzetta Quelle pubblicate Con il giornale Costano sempre meno Perché adesso Non so quali Stratagemmi utilizzano Per abbassare i costi Sono anche Qualitativamente Molto inferiori Perché questi qua Sono volumi cartonati Per cui sono più bellini Poi appena ce l'ho Magari Li guardo bene Infatti penso Che il video Lo farò la settimana prossima Perché non ce l'ho ancora Però Ovviamente A 14 euro Non vale la pena Diventa un po' inutile Cos'è La rinascita di Thanos Ma sono le storie Degli anni 90 Silver Surfer La rinascita di Thanos No questa è rinascita Eh no Sì è proprio quello Sono quelle di Starlin Ma pensa Queste storie qua E' quella con Thanos Quest Ma ci sarà Thanos Quest Dentro Vabbè E il video mi sa di sì Perché c'è la mia zia O valo la mia zia apposta O sennò ci vado l'uno Ma il volume 1 Te lo manda direttamente a chat No Però C'è la mia zia Ho mandato lei A comprarlo Questo volume è strano Comunque Fake news Civil War Civil War Completo Così Il 31 Vai dalle zia A fare il capodanno In montagna Non sono in montagna I miei zia E no Non vado a passare Il capodanno Con loro Shulk Single Lady Mi fa paura Sarà quello di Den Slott O quello di Pulido No di Quell'altro Mi ricordo Sarà questo Single Green Female Che è quella di Den Slott Ebbene sì Ti aspetto con i saldi Per comprare la borsa All'azia Ma non è neanche morto Ma tu sei fuori Moon Knight Il fondo L'ho creato L'ho cercato E della Randy Finch Ok Butta dentro L'azia In chiamata Streamer Non mi sembra Il caso Povera zia C'ha anche I cazzi suoi Immagino No Mi è scaluto L'abbonamento Da Luli Ziv Peccato Vabbè Era niente Bisogna fare Un po' di Studietto Su cosa c'è dentro Esattamente In ogni numero Però Anche qua Se uno vuole recuperarsi Questa Shulk Di Slott Ma fai prima Comprarti l'Omnibus Per averla tutta Che è sempre quella Quanto costa L'Omnibus Shulk Shulk Slott Niente Si è resettato Shulk Slott 75 euro Però ho detto Che questo Sia no 12 episodi Mentre Tutta la serie Erano 12 Più 21 Un po' più lunga Bello Tutto Civil War Purtroppo Sia compulsiva Ne prendo uno Devo avere anche gli altri 99 80 No 99 Non 80 Il volume di Wolverine Quale? Wolverine Wolverine Allora Se fosse Wolverine Dovrebbe essere il Wolverine Allora Dovrebbe essere il Wolverine Di Miller E Clermont Perché credo sia L'unica serie Che si chiama Solo Wolverine Se cerchiamo Wolverine volume 1 Dovrebbe essere quella Vedi? Secondo me è questo Perché Se è solo Wolverine Sì è molto bello Però lo paghi 14 euro Cioè Lo trovi questo Se lo vuoi Nel senso Questa storia qua La trovi In un sacco di edizioni Fra cui il must have 52 Di Wolverine Questo Che contiene esattamente La cosa La paghi un euro in più Hai il volume singolo E se vuoi solo questo Ti compri solo questo Sì anche Nell'integrale Cioè Il problema è che La maggior parte Di queste cose qua Le trovi in altre L'immortale Era un fist Ma ti compri solo Il primo volume Ha senso No Ammetto che Questo qua Forse è anche Difficile da trovare Oggi Perché effettivamente Il 100% Marvel Non lo trovi E non so Se lo hanno riproposto In qualche versione C'è Forse L'Omnibus Avevano fatto Di Iron Fist Però Non mi ricordo In realtà Vediamo Non ti resetti Posso scrivere Grazie No Si è resettato Grazie Grazie Sido Panini Sei molto Stronzo Come sempre Ce l'ho Omnibus Uno se lo compra tutto Invece di comparsi Ma Era tutta in questo Ma Ma Non è questa Forse Era un'altra serie Mi sa Boh Ma Sono solo I primi tre Bra Merda Perché io Ho il 100% Marvel Di quest Ma Non sono sicuro Se è la stessa storia È la stessa Non è la stessa Questo è più recente Credo Boh Sono i 3 di Aya Ok Sono confuso Ah si L'Immortale Era un first Però Sì Per cui si Vabbè Poi Il must have E Mostarda Io capisco che non leggi fumetti da molto Ma i 100% Marvel Sono volumi brossolati Che Panini faceva 10 anni fa Qui Non sono i Marvel Collection Che anche lì Perché dovrei preferire uno all'altro Beh di base Sono meglio I must have costano meno Il 100% Marvel Sono volumi brossolati Che non esistono più Per cui Cioè non li trovi Da nessuna parte Non contengono i costi È questo il problema Comunque li pagheresti Minimo 14 euro In qualsiasi caso Indipendentemente dal formato Per cui A Panini non conviene Li fa In realtà I brossolati Di certe cose Però sui materiali Di riproposta Degli spillati Fai cartonati E Di roba Nuova Qualcosa Esce in brossolato Però Poca roba Sono d'accordo Che ci vorrebbero Più brossolati Cioè andrebbero A Fondamentalmente Bisognerebbe cercare Di fare le cose Per abbattere i costi Quindi volumi Con tante pagine Invece di fare Due volumi Con meno pagine Li fai pagare Un po' di più Però nel complesso Paghi meno Ma non Non è una cosa Che Panini Sembra essere Proprio Dell'idea di fare Con moltissima roba Lo fa un pochino Con DC Con i maxiserie Ma neanche troppo Neanche lì Per cui Però stessa cosa Vale per i cartonati grossi Fortunatamente Certe cose Le ha annunciate Tipo I guardiani Della galassia Di Ewing Dovrebbe fare Direttamente Il volume 8 Completo E ciao Che è molto meglio Di avere i tre Volumi separati Che ti costavano Un pezzo in più Brossolato C'è quasi solo La linea Yanga No non è vero Le robe mutanti Escono in brossolato Ad esempio I volumi Che non escono In spillato E poi Qualche cosina D'altro La fanno Spesso Le cose speciali Tipo collegate A eventi Sono proposte In brossolato Tipo I speciali Delle saghe Perché In cartonato È stupido Farlo dire Quando poi Tanto Li puoi rivendere In cartonato Più avanti Spider-Man Venom E Carnage Non credo Non può essere Quella di McFarlane Perché Non c'era ancora Carnage In quella di McFarlane Boh Spider-Man Venom E Carnage Può essere Qualsiasi cosa A meno che Non ci sia già Un volume Che si chiama così E possiamo Provare a vedere Ma Può essere Potenzialmente Qualsiasi cosa Non ho idea Sicuramente Non è McFarlane Perché non c'era Carnage Carnage Appare per la prima Volta in Maximum Carnage Che era post McFarlane Per cui no Potrebbe essere Boh Questa Spider-Man Versus Carnage Che c'è anche Venom Tony Stark Ha fatto anche Cose buone Ciao Alane7 Benvenuto Potrebbe essere Questa qua Però non so Cosa sia Questo È un volume Un po' a caso Mi sembra Ci sono storie Tratte da Amazing Ma spostate Cioè Alcune classiche 361 63 E altre Molto più avanti 430 431 Boh È un po' Boh misterioso Cosa sia Quello Sì sì Può essere Veramente Tutto Quello Prima operazione Di Carnage Non me la ricordo Cioè Come Carnage Vero e proprio È tipo Non mi ricordo Aspettate Allora Carnage appare Per la prima volta Su Spider-Man 345 Però questo è il simbionte In realtà Carnage Vero e proprio Non il simbionte Voglio Carnage Vero e proprio Non Dark Carnage Dark Carnage Carnage Quarto C'è un quarto Carnage Addirittura Cletus C'è un po' Un casino Girarselo Però Sto provando Ieri Mi dice Non disponibile In manutenzione Ma l'ha fatto anche a me Ho dovuto provare un po' di volte L'ho fatto l'altro giorno Non lo so Prova a cambiare browser A aggiornare A cancellare i cookies Non lo so Panini È un sito bellissimo Ciao Mostarda Vai a salvare il tuo pianeta Potere pelato La prima apparizione Come Carnage È Amazing Spider-Man 360 Mi dice Del gennaio 92 Misteri Sì no Panini È così Io ho fatto L'ordine che mi è arrivato Cioè che ho fatto vedere Ieri tipo L'ho dovuto fare tre volte Perché mi diceva Servizi in manutenzione Mi arrivava Paypal Paypal Pagavo Non ho avuto il sito Servizi in manutenzione E non mi scalava i soldi Fortunatamente Ma va così Comunque Come è risolto L'ho fatto tre volte Alla fine ha funzionato Ok Che dite Facciamo un raidino Raidiniamo Che sono stanco Sì Facciamo un raidino Allora Dai vi mando Da Kiki Cima Che dopo Devo andarci Credo Kiki Cima Va bene Ci vediamo Se volete Alle 21 e 30 Da Kiki Cima Potete rimanere qui Con la live E a un certo punto Mi paleserò Prima devo mangiare Però Quindi Potere pelato Ci vediamo domani Prenderai Batman 89 No E Cima 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 Grazie a tutti